Bene, proviamo adesso a costruire con Scratch uno script per realizzare un cronometro iniziamo con il predisporre il nostro ambiente togliamo il gattino che in questo momento non ci interessa lo facciamo cliccando sulla X qui, dello sprite e andiamo ad aggiungere il nostro sprite per farlo non andiamo nella ricerca dello sprite perché quando noi cerchiamo uno sprite direttamente da qui noi ad esempio utilizzeremo questo sprite vedete che ha 4 costumi, vedete che la freccia si muove ma a noi interessa invece uno solo dei costumi di quella freccia e allora disegniamo un nuovo sprite disegniamo un nuovo sprite, vedete che ci viene aggiunto un nuovo costume a noi non interessa quello ma importiamo, da qui possiamo importare uno dei costumi che fa parte della libreria degli sprite di Scratch a questo punto clicchiamo si apre di nuovo la nostra galleria vedete tutti i costumi, questi sono i 4 costumi della freccia Arrow possiamo anche volendo cercare direttamente quindi scriviamo Arrow e a noi interessa questo costume che ci viene aggiunto possiamo togliere il costume 1 e teniamo questo a questo punto deformiamo selezioniamo la freccia e la deformiamo allungandola utilizzando questa maniglia per allungare la freccia in modo tale che poi noi la utilizzeremo come lancetta del nostro cronometro allora trasciniamo e allunghiamo facciamo in questo modo e poi dobbiamo spostare la lancetta vedete che lo sposto qui sul lato al centro del nostro del nostro costume c'è questa facciamo uno zoom forse si vede meglio aspettate eccolo qui questo è quello che volevo farvi vedere all'interno c'è proprio tipo un mirino che va a identificare il fatto che questo è il centro del nostro costume il centro del nostro costume ci serve proprio per andare a dire qual è il punto centrale dello sprite e ci serve poi per la posizione di centratura nello schermo la accorciamo un po' possiamo fare anche così ecco a questo punto avendo messo lo sprite che inizia la lancetta che inizia inizia dal centro il costume di questo sprite che inizia dal centro del nostro del nostro spazio qui sul lato dove c'è la possibilità di andare a posizionare il nostro il nostro sprite andiamo a scrivere le coordinate 0 0 in modo tale che la lancetta inizi giri intorno al punto centrale del nostro stage fatto questo clicchiamo sul lato dello stage e importiamo utilizzando import a sfondo il quadrante del nostro del nostro econometro clicchiamo vado a cercare il mio quadrante ed è questo che ho disegnato eccolo qui possiamo togliere lo sfondo 1 che non ci serve più se vogliamo possiamo riallungare un po' la freccia in modo tale che proprio sia precisa vediamo eccolo lì insomma che vado a coprire bene il le varie lineette i vari segmenti del nostro quadrante bene abbiamo predisposto il nostro il nostro lavoro a questo punto torniamo sullo sprite e andiamo su codice fate sempre attenzione quando lavorate con scratch a selezionare o lo sprite o lo stage quindi per quanto riguarda il codice perché anche lo stage può essere programmato quindi fate attenzione a dove state utilizzando i blocchi del codice bene allora abbiamo cliccato sullo sprite e poi su codice a questo punto iniziamo a creare i nostri blocchi il primo blocco che andiamo a creare è una variabile secondi in questo lavoro in questo cronometro andremo un po' a rivedere diverse cose che abbiamo usato ad esempio con la palla pazza quindi le situazioni quindi gli eventi la bandierina verde i cicli per sempre le condizioni e introdurremo anche l'uso delle variabili in questo video useremo una sola variabile che dedicheremo ai secondi cosa serve una variabile la variabile serve per memorizzare un valore un valore che può variare all'interno del del programma le variabili in scratch utilizzano in modo particolare due blocchi il porta variabile a quindi con questo blocco noi assegniamo un valore alla variabile noi lo useremo ad inizio del nostro programma e con cambia la variabile di invece abbiamo la possibilità di variare il valore della variabile ad esempio in questo caso di una unità ed è quello che faremo noi con il nostro lavoro intanto scratch ci dà la possibilità già di utilizzare una variabile che si chiama la mia variabile ma noi la possiamo rinominare oppure ne possiamo creare una di nuova dopo ne creeremo di nuove nulla toglie che possiamo fare tasto destro sulla mia variabile e rinominarla e la chiamiamo secondi perfetto a questo punto iniziamo a creare il tutto allora torniamo in situazioni utilizziamo la solita il solito blocco quando si clicca su bandiera verde faccio un po' di zoom e riduco lo spazio meglio allargo lo spazio riduco lo stage utilizzeremo 4 bandierine verdi poi ne parleremo di questa cosa comunque in questi primi blocchi facciamo quando si clicca su bandiera verde cosa succede? beh intanto portiamo la variabile secondi a zero in modo tale che tutte le volte che clicchiamo sulla bandiera verde i secondi partano da zero dato che ci siamo facciamo apparire anche la variabile secondi guardate cosa succede a fianco della variabile secondi clicco su metto la spunta in modo tale che appaia la variabile secondi in modo tale che possiamo verificare che effettivamente i secondi vengano che la variabile venga effettivamente modificata durante l'esecuzione del programma e poi utilizziamo il blocco direzione punta in direzione parleremo di questo blocco anche quando vedremo la creazione dell'orologio punta direzione fa in modo tale che la lancetta si posizioni nel in questo caso punta in direzione 90 verso l'alto allora di per sé vedete che direzione 90 indica verso destra ok verso il su è 0 verso il giù è 180 e meno 90 invece è verso sinistra ci verrebbe da pensare che dovremmo utilizzare la punta in direzione 0 perché è verso l'alto in realtà guardate se io clicco faccio un clic la posiziono a 0 e faccio un clic vedete che lo sprite si posiziona verso verso sinistra questo perché perché noi abbiamo creato il costume proprio verso l'alto ok quindi verso l'alto la posizione scratch considera la posizione base di ogni sprite in posizione 90 quindi per questo tipo di sprite con la freccia posizionata in questo modo la posizione la direzione attuale per scratch è 90 quindi se noi diciamo metti in posizione 0 lo mette verso verso sinistra quindi noi dovremmo andargli a dire posiziona a 90 gradi ok e vedete che effettivamente torna là mettendolo nelle sequenze iniziali cosa succede? ogni volta che noi premeremo sulla bandierina verde la variabile verrà portata a 0 e la freccia anche se si trova magari in qualsiasi punto del nostro del nostro quadrante viene riposizionata nella posizione scusate la ripetizione viene messa nella posizione iniziale cioè sul 0 del nostro del nostro quadrante bene a questo punto lavoriamo con l'incremento della variabile cioè ad ogni secondo che passa la variabile deve aumentare di 1 allora riprendiamo da situazioni la bandierina verde ci serve un ciclo per sempre che troviamo in controllo quindi tutto quello che noi andremo a eseguire verrà ripetuto in continuazione fin tanto che noi non andremo a bloccare con il pulsante rosso con il fermo tutto il ciclo dentro questo ciclo mettiamo l'altro blocco che trovate in controllo che attendi 1 secondi ci sono diversi modi in realtà per utilizzare il tempo all'interno di scratch questo è un po' il più semplice perché poi scratch se noi andiamo in sensori ci mette a disposizione un cronometro e potremmo utilizzare anche questi due blocchi per usufruire del tempo questo secondo me è un po' più semplice soprattutto per iniziare a capire per sempre attendi 1 secondi e poi da variabili utilizziamo finalmente questo cambia secondi di 1 quindi cosa succederà premo sulla bandierina verla i secondi vengono portati a 0 la freccia viene messa in direzione 90 quindi in questo caso verso l'alto nel frattempo avrò per sempre cosa succede attende un secondo e cambia la variabile di 1 noi avremmo potuto fare anche il contrario mettere prima cambia secondi di 1 e poi l'attendi però cosa succederebbe è che avremo subito l'uno e poi attende un secondo invece è giusto che sia che premo la bandierina verde aspetta un secondo e poi scatterà un secondo se noi proviamo ecco qui vedete che questi blocchi sono in costante esecuzione perché sono evidenziati dal giallo e la variabile vedete che sale sempre di un valore dopo che è passato un secondo stoppiamo e vediamo che secondi è a 15 se noi riprendiamo la bandierina verde vedete che riparte da 0 perché giustamente vengono eseguiti anche questi blocchi che portano il valore a 0 adesso torniamo in situazioni facciamo la parte di movimento della lancetta prendiamo di nuovo un blocco quando si clicca su bandiera verde e facciamo sostanzialmente la stessa identica cosa andando a sostituire a questo cambio a secondi di 1 quindi prendiamo un altro per sempre prendiamo un altro attendi 1 secondi e questa volta andiamo in movimento e prendiamo il ruota a destra ok di 15 gradi la lancetta si muoverà verso destra in senso orario ok come ci suggerisce la rotazione naturalmente girerà facendo perno sul centro sul suo centro quindi quello che noi abbiamo stabilito come centro di quanti gradi doveva muoversi beh allora il quadrante è un angolo giro 360 gradi sappiamo che in un minuto ci sono 60 secondi ho diviso questo questo disegno questo angolo giro in 60 segmenti che identificano ogni secondo quindi 360 diviso 60 ogni segmento ok è distanziato uno dall'altro di 6 gradi quindi qui dentro andremo a scrivere 6 facciamo una prova parte da 0 e ad ogni scatto di secondo vedete che si muove anche la lancetta proviamo a stoppare e far ripartire rifacendola ripartire dovrebbe la lancetta tornare sullo 0 e poi ripartire vediamo eccola lì è andata sopra e poi vedete che inizia a muoversi in questo modo perfetto adesso facciamo una piccola già così il nostro il nostro cronometro è sostanzialmente fatto per quanto riguarda i secondi aggiungiamo una piccola cosa che è un suono al passaggio della lancetta di ogni secondo facciamo emettere un piccolo suono al nostro programmino per fare questo facciamo la stessa identica cosa prima però andiamo a prenderci i suoni quindi in costumi abbiamo i costumi in suoni abbiamo la possibilità di poi prenderci dei suoni che andremo ad utilizzare nel nostro script di default in predefinito c'è questo pop ok a noi non interessa andiamo a cercare invece il suono che si chiama wood tap e lo aggiungiamo togliamo il pop che non ci serve ok torniamo in codice e facciamo la stessa identica cosa potremmo anche duplicare semplicemente ma soprattutto le prime volte con i ragazzi io cerco sempre di non di replicare ma di fargli provare il meccanismo quindi di nuovo bandierina verde di nuovo il per sempre di nuovo l'attendi uno secondi e a questo punto andiamo in suono e prendiamo avvia riproduzione suono wood tap vedete che ce ne sono due due uno è riproduci suono e attendi la fine uno invece è avvia suono e avvia riproduzione suono noi scegliamo questo perché non utilizzare l'altro ricordatevi che scratch esegue le istruzioni in sequenza quindi esegue prima una istruzione e subito dopo eseguirà la seconda e via dicendo se noi mettiamo riproduci suono wood tap e attendi la fine dovremo attendere che finisca il suono e poi ripasserà a rieseguire l'istruzione attendi un secondi il suono wood tap è molto breve quindi più di tanto non ci creerebbe problemi ma se fosse stato un suono un po' più lungo sicuramente avrebbe creato una una non sincronizzazione tra il movimento della lancetta e il il suono stessa cosa di non sincronizzazione l'avremmo se tutti questi blocchi li mettessimo in un'unica sequenza noi avremmo potuto tranquillamente mettere per sempre attendi il secondo cambia secondi di uno ruota di sei e avvia riproduzione suono in realtà ci saremmo accorti che cambia secondi di uno e ruota più di tanto non avrebbe inciso sulla cosa ma tra la rotazione e il suono effettivamente ci sarebbe stata una non perfetta sincronizzazione adesso provo ad attivare il suono vediamo se funziona e se riesco anche a farvi sentire ok c'è un po' di ritorno chiaramente perché il ritorno è nel microfono però avete visto che avete la possibilità di proprio creare un piccolo cronometro con la lancetta che si muove e il suono che si sente ad ogni scatto di lancetta bene abbiamo finito questa prima parte faremo una seconda parte dove andremo ad aggiungere anche il conteggio dei minuti e delle ore